Ben ritrovati, ben ritrovati nel mio canale, in questo mio nuovo video. Mi raccomando, come al solito, è importantissimo l'iscrizione al canale, campana attiva, like, commenti, fatemi sempre sapere cosa ne pensate qui sotto. Allora, in attesa di quelle che saranno le interviste e commenti post-gara, ripropongo quella che è l'intervista di rilasciata, o perlomeno quella che è la breve dichiarazione rilasciata da Cambiasso nel pre-gara. Parla di quello che è stata, diciamo, al confronto, la gara d'andata, dove è stato protagonista, speriamo possa essere protagonista anche in questa, sto registrando ovviamente prima dell'inizio della partita, parla di El Chiesa, parla di Alcarazza e di tutto quello che ne comporta una settimana che sappiamo è stata non proprio positiva per la Juventus. Queste sono le parole, a dopo con le interviste e fino alla fine, sempre, sole, nonostante tutto, forza Juve!